bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi siamo in un gameplay un po particolare siamo su far cry primal allora sto un po male ve lo dico subito infatti ho questa questa specie di scaldacollo che mi sta tenendo l'inferno dentro voglio un bel supporto per questa serie perché secondo me ragazzi questo gioco è bellissimo il 4 me lo sono giocato fino alla fine e credetevi era stupendo andiamo forza andiamo forza sono volatilizzato me ne vado ecce che toglie il peccato amore ma è vero anche le che vanno questa non manca ma vado a mezz'azza Non c'è Daniel, non c'è Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Allora, io te la portate. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì.